perché facciamo un po' di giochi, anzi state qui direttamente dai grazie A te la chitarra arriva sempre uguale? La chitarra perché ce l'ho più bassa rispetto all'altra volta di volume di Near. Adesso è perfetta, come sempre. La chitarra perché ce l'ho più bassa rispetto all'altra volta di volume di Near. A A C Poi si armano ancora un finino la chitarra, proprio poca roba. Su, 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 suana, suana. Yeah, 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 yeah. Sì, e poi metto? Allora, let's get up. Allora, let's get up. Allora, let's get up. Let's get up. Allora, 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 let's get up. Sì, suoni più piano, cioè suoni così o suoni più piano? Scusa, ma io l'ho chita l'elettrica.